Andiamo? Scusate tanto il disturbo, eh? Pietro, non lo dica più, per favore. Grazie. Ma che me vuoi far morire? Per fortuna che la signorina dell'interno di Oda vi sentrà qua dentro da sti signori. Ma perché non sei andata a scuola? Perché non ci vado mai più. E se aiuto ci porta schiaffoni! Ok.